C'è Boccia, un dirigente del PD tornato nell'area della maggioranza del suo partito con Zingaretti. Una malivazione ci sarà riguardo a questa giravolta, ce l'avete definita così. Noi siamo persone serie, siamo abituati a fare le cose che diciamo, le cose che il PD pensa, le ha dette il segretario, e sono le stesse cose che abbiamo proposto al Presidente del Consiglio Conte. Quindi ora tocca a loro iniziare a costruire con noi un governo di svolta oppure dire che non sono in grado di farlo perché hanno problemi di altra natura che non capiamo. Voi pensate che Di Maio non voglia fare questo governo? Non lo so, io so solo che il PD ha posto temi, lavoro, ambiente, scuola in maniera molto chiara, su quei temi vogliamo risposte e non abbiamo posto problemi connessi alla condizione personale di nessuno. Loro dicono che hanno posto temi. Sì, però se si va davanti alle telecamere e si dice che su alcuni temi non si discute nemmeno, penso ai decreti di sicurezza, diventa un problema. Comunque il nodo resta lo stesso e cioè che con il PD ultimatum, con gli ultimatum non funzionano. Noi non siamo la Lega di Salvini, vorrei cercare di passare ragazzi, non siamo la Lega di Salvini. Col PD se si tira la corda, la corda resta in mano. Hai sentito parlare anche di ipotesi di appoggio esterno? No, queste cose le discutiamo come noto nelle sedie opportune. Queste sono le parole di Boccia. Vediamo se dice ancora qualcosa, per essere sicuri. Vediamo entrare. No, no, è entrato. Allora, scusa, abbiamo preso, bravo Andrea, abbiamo preso al volo l'intervista collettiva a Boccia. Ci siamo persi forse all'inizio qualcosa o la sostanza l'abbiamo presa tutta? La sostanza essendo, mi pare di capire che appunto... Siamo il PD, non ci facciamo fare ultimatum da chi che sia.